È pronta a scendere sul parquet per vivere una nuova stagione da protagonista. La BBC Virtus Cassino si è presentata ai suoi tifosi e alla città. La squadra di basket Cassinate nel prossimo campionato militerà in Serie B dopo l'esperienza dello scorso anno che l'ha vista rappresentare la città di Cassino nella massima serie. C'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare dopo un difficile anno in Serie A che comunque è stata un'esperienza importantissima e voglio dire positiva perché si deve sempre partire dal successo, dal fatto di esserci arrivata in Serie A e quindi io parto sempre dal positivo. Quest'anno ritorniamo a giocare nella nostra città, nella città di Cassino, nel palazzetto dello sport di Cassino e quindi penso che questo sia il passo più importante per noi. Siamo in Serie B che è comunque una categoria nazionale importante e penso che si debba partire da questo importante traguardo perché per me è un traguardo giocare nella mia città. La presentazione si è tenuta nella sala San Benedetto della filiare della Banca Popolare del Cassinate nel giorno dell'anniversario degli otto anni dalla nascita della Virtus. Tante le novità per la prossima stagione. Sarà una prima squadra completamente rinnovata nel solco di un progetto che è stato costruito per gestire il prossimo triennio. Abbiamo preso ragazzi 9 su 12 del roster nati dopo il 1990, quindi dal 1990 a salire, quindi una squadra molto anagraficamente molto più giovane rispetto a quelle precedenti e soprattutto solo due che sono nati negli anni Ottanta che faranno un po' da chioccio, che sono il playmaker Michele Maggini e il nostro Mauro Riburdi Cassinate che ritorna a Cassino. La seconda novità, ci saranno delle new entry nel novero dirigenziale, abbiamo allargato moltissimo la base dirigenziale, terzo, ultimo ma non ultimo, abbiamo allargato anche il novero dell'aspetto tecnico, ci saranno delle grosse novità in ambito tecnico, oltre al riconfermato Luca Vettese, al team manager Furio De Monaco, è una nuova Virtus, un nuovo anno, l'anno zero, l'ho definito bene. Una realtà che rappresenta un vanto per tutta la città. Come amministrazione cerchiamo di fare il tutto per tutelare, lo facciamo in tutti i settori, le eccellenze, la Virtus Cassino è un'eccellenza di Cassino e quindi ci metteremo a disposizione per fare tutto il possibile affinché questa squadra possa avere la giusta attenzione dell'amministrazione comunale e spero la giusta attenzione della cittadinanza e dei tifosi perché poi questo è sicuramente molto più importante.